mattina con noi seconda parte dalla in diretta dalla sede centrale dell'università nicolò accusano torniamo a parlare di inclusione e intercultura con le nostre ospiti ma questa volta lo facciamo dal punto di vista di chi entra a far parte di un gruppo nuovo professore salombardi è innegabile il diverso la persona economicamente più povera svantaggiata o comunque una persona con disabilità con delle problematiche sa di essere diverso e sa forse che avrà delle difficoltà c'è un modo per affrontare gli altri quindi per affrontare quelli che sono tutti uguali per così dire tra virgolette cioè c'è un modo anche per evitare conflitti varie forme di bullismo bene e allora sicuramente il punto di partenza è sempre la visione i modelli di riferimento di cui parlavamo prima c'è una bellissima frase che dice innanzitutto diverso da chi noi appunto come dicevamo siamo tutti diversi e il significato che attribuiamo a quella diversità il contesto in cui viviamo allora e l'identità di cui parlava prima ecco la nostra presidentessa è sicuramente uno dei punti di partenza e ci si sente diversi perché molti bambini non sono consapevoli della propria disabilità e gli altri come ci vedono che ce la rimandano e quindi quando siamo molto piccoli non sappiamo di avere delle caratteristiche particolari le scopriamo attraverso la relazione con gli altri ma questo riguarda tutte le caratteristiche della nostra identità sociale identità personale sono i grandi che ci dicono tu sei bravo tu sei cattivo devi giocare con le bambole devi giocare con la pistola e la barbi con i capelli biondi e quindi un po alla volta tramandiamo trasferiamo questi punti di vista su un modello di società che all'interno di un determinato contesto geografico culturale diventa sempre più circoscritto quindi come si fa ad evitare partendo proprio dalle basi dalle basi di cui dicevamo prima non l'educazione e cambiando il punto di vista degli adulti quindi formandoli alla convivenza comune e solo questo può essere un modo per evitare le conflittualità e comunque limitare i danni al massimo senta stavamo dicendo che anche in italia ci sono delle differenze quindi tra meridionali persone del nord città di mare città dell'entroterra ecco per esempio le città di mare sono oppure le città dove c'è molto turismo più facilmente predisposte all'apertura verso il nuovo verso il diverso verso il turista che arriva da fuori le città dell'entroterra sono un po più limitate in questo rispetto alla sua attività lei ha trovato e riscontrato più facilità a lavorare in alcune comunità rispetto ad altre ma anche in alcune realtà rispetto ad altre no direi non non ho riscontrato grandi differenze da questo punto di vista e in ogni realtà in cui ho lavorato ho scoperto all'interno di contesti per i quali si potrebbe avere un pregiudizio grandi spunti di innovazione e così come magari in altri contesti da cui magari ci si aspetta un'apertura maggiore ci potrebbe essere un elemento di chiusura e non ci sono delle regole da questo punto di vista e per esempio ecco come dicevo prima viaggiando in brasile ho visto che ci sono delle leggi diverse dalle nostre non ci sono gli insegnanti specializzati all'interno delle classi per le disabilità gravi esistono le scuole speciali e questo potrebbe indurre indurre ad avere dei pregiudizi rispetto al modello educativo ma il brasile grande non è possibile fare dei dei confronti ho visto anche tantissime scuole con dei grandi spunti innovativi con un bellissimo approccio pedagogico aperto alle differenze legate ad una condizione di disabilità o interculturale per esempio e poi il brasile da molti più anni è abituato alla complessità ecco delle differenze ecco questo però per per affermare che in certe realtà è più facile relazionarsi a persone che arrivano da fuori e in altre invece è un po più complicato è vero Cinzia? Sì dipende appunto dal tipo di cammino che si fa all'interno di queste società insomma Beh l'Italia la conosciamo però l'Italia si un po' la conosciamo diciamo che in Italia il modello di integrazione è buono nel senso che non è né ghettizzante né diciamo a salad bowl come si dice no in salatiera dove si mette tutto insieme cioè si cerca di lavorare dai diversi punti di vista e quindi sì ci sono diversi modelli di integrazione a livello mondiale quindi c'è un modello anche inglese che porta più la separazione no siamo tutti insieme però ognuno va per conto suo mentre invece il modello italiano cerca di prendere diciamo un po' uno spunto dai lati positivi è un po' più aperto forse prima noi dicevamo che in Italia ci sono diversi modi di vivere per esempio anche il milanese al nord è un po' più chiuso rispetto ai romani che apparentemente sono più aperti e accoglienti apparentemente poi in realtà è più difficile al sud invece quando arrivano persone da fuori le accolgono c'è comunque un modo di stare nella relazione con il diverso con l'altro completamente diversa i napoletani per esempio sono molto socievoli insomma sono molto avvezzi alla socialità le regioni le città turistiche forse sono luoghi dove un po' più semplice il bullismo e non conoscenza dell'altro un po' di cattiveria forse e anche un po' di paura cioè il bullo ha paura la paura dell'altro infatti appunto dicevamo appunto che per vincere questa paura bisogna lavorare molto su se stessi proprio sulla presa di coscienza della propria identità personale una persona che lavora su se stessi sta tranquilla quindi dice io sono così non ho paura dell'altro spesso il bullismo avviene proprio quando ci sono situazioni in cui la persona non ha una piena presa di coscienza di se stessi della propria identità culturale e personale noi lavoriamo molto proprio su questo il vero problema oggi è che il bullismo sia tra i ragazzi molto giovani quindi a scuola dove non c'è cultura non c'è formazione ma anche tra gli adulti forse il problema più grave infatti questo è il problema più grosso che sviluppandosi questo tema della paura non la paura del diverso l'altro mi minaccia nel quale america tira fuori il discorso della minaccia identitaria lei dice bisogna prendere coscienza della minaccia identitaria però dice anche che si prende coscienza della minaccia identitaria per gestire meglio la relazione perché poi l'altro mi aiuta a crescere mi arricchisce quindi se io bisogna creare un buon rapporto con l'altro quindi una buona comunicazione e una buona relazione infatti quindi noi lavoriamo molto sul decentramento della persona che deve intanto capire che non è al centro del mondo è importante prendere coscienza di se stessi e capire che non sia al centro del mondo conoscere l'altro e poi sviluppare quella mediazione e negoziazione nelle diversità e tutto questo è come un allenamento che noi portiamo a sviluppare cui non siamo abituati continuiamo a vedere negli altri in chi viene da fuori come una persona che può rubare può portarci via il lavoro può portarci via dei soldi o può entrare a far parte di gruppi un po particolari e difficili cioè in parte queste sono anche delle verità sono delle verità cioè in parte le cose vanno realmente così certo che però bisogna imparare a gestire perché come dicevamo noi quando lavoriamo diciamo esiste in effetti la mitaccia identitaria ma se tu la sai gestire diventa poi la relazione una ricchezza perché io in quel modo lì non ho più paura dell'altro e quindi essendo cosciente di me l'altro è cosciente di sé impara a scambiare ma è un viaggio molto lungo io credo che le responsabilità delle problematiche che stiamo raccontando sono anche legate alla modernità alla società liquida alla società contemporanea alla globalizzazione ci spostiamo con più facilità e quindi ci sono famiglie che decidono di cambiare vita in certi casi cambiare nazionalità in passato questo non succedeva credo professoressa beh da sempre ci sono state le migrazioni no però in italia nel nostro paese noi abbiamo detto che nel secolo scorso andavamo c'era il sogno americano quindi si sognava l'espatrio perché in america si andava a cercare fortuna adesso sta succedendo la stessa cosa a noi in altro modo però noi non eravamo abituati ad accogliere e alla presenza di di tante diversità insomma si diciamo che siamo abituati al nostro contesto storico culturale e non abbiamo una visione ampia di quello che è stato nel passato in fondo è un processo naturale che esiste da quando è nata l'umanità no? e anche da prima molto probabilmente la paura del diverso è da sempre esistita da sempre abbiamo creato muri barriere e li ricreeremo ancora sappiamo che non siamo mai giunti in maniera definitiva ad un processo di apertura universale una società ideale sarebbe quella in cui non bisognerebbe parlare più di inclusione ma bisognerebbe parlare di universalità in cui tutti possano partecipare con il proprio modo di essere e questa dovrebbe essere la base ma non siamo pronti questo passaggio mi piace molto non siamo pronti non siamo pronti di parlare di inclusione e cominciare a parlare di universalità cioè cominciare a pensare che tutto il mondo è paese ma non siamo ancora nella condizione cioè abbiamo cominciato un percorso ma bisogna ancora camminare appunto sì e solo per concludere ho preso un po' ecco l'immagine della copertina del libro perché diventa più facile anche parlare con dei linguaggi visivi o dei disegni ho riportato qui la firma degli artisti orientali questa è la firma che un artista giapponese potrebbe fare secondo la filosofia zen è un cerchio che è una forma pura un cerchio può essere aperto chiuso e ogni firma che apparentemente può sembrare simile all'altra non lo è mai perché ognuno ha la propria identità e la propria diversità il cerchio aperto rappresenta anche un po' ecco l'universo e anche ci sta a ricordare che siamo parte di un tutto e questo dovrebbe essere un po' emblematico ritornando al discorso che non dovremmo mai dimenticare il fatto di essere parte di un tutto unico e quindi la nostra identità personale seppur diversa ci accomuna a questa unicità di fondo assolutamente per esempio il covid ci ha ricordato che tutto il mondo è paese è un problema che ha creato guai ovunque che ha causato guai ovunque quindi da oriente a occidente le difficoltà economiche spesso accomunano tutti i paesi ma poi per il resto siamo molto diversi per ragioni culturali per questioni storiche per questioni economiche cioè non possiamo dire che vivere in Italia è la stessa cosa che vivere in Francia o in America o in Cina adesso abbiamo l'Oriente che dall'Oriente è partito il covid l'economia orientale che comunque è interessante perché l'Oriente lavora in altro modo quindi ci sono ancora grosse diversità che vanno affrontate e soprattutto prima vanno conosciute e capite nelle attività del tempo libero quante persone straniere avete nei gruppi non lo so nelle attività sportive per esempio negli incontri tra amici quante persone straniere ci sono poche e si finisce poi per stare sempre tra con cittadini tra amici dello stesso paese i cinesi quindi frequentano il loro gruppo la loro comunità e non si aprono agli altri è interessante questa domanda anche perché riferiamo poi quello che tu stai dicendo alla nostra vita personale quindi alla nostra identità culturale ecco se penso all'identità di Grazia penso ai miei amici e la maggior parte sono coppie miste che vivono all'estero molti dei miei compagni di viaggio e studio hanno scelto di viaggiare quindi di emigrare di sposare persone provenienti da altri paesi ma anche a Foggia nella mia piccola città ho molti amici coppie miste sempre Sì ma quanti sono? Sono pochi? Quanti sono? Facendo riferimento al mio gruppo di amici potrei parlare anche di due o tre amici bisognerebbe fare delle statistiche però non considero siano pochi e quindi ecco interessante sono le rappresentazioni sociali che noi abbiamo che creano una visione della realtà e analizzandola e poi con dei dati questa visione potrebbe cambiare no? Certo, abbiamo parlato dell'importanza dell'educazione e della formazione quindi nel cambiare le rappresentazioni sociali dei diversi e delle minoranze ma per quello che riguarda gli adulti forse bisogna pensare a qualche altra forma di inclusione professoressa Pensando agli adulti cioè dopo l'educazione dopo la scuola che cos'altro ci può essere? Cioè abbiamo detto che bisogna formare gli insegnanti per i ragazzi ma invece per gli adulti? Anche questa domanda è sempre molto interessante che cosa possiamo fare per gli adulti? Sicuramente bisogna pensare alle associazioni, al territorio, alla comunità, alle grandi imprese che cambiano la cultura L'anima è nella rete e sono poi le comunità che trasformano la cultura, le comunità che partono da delle esigenze e creano poi fondazioni come quella della Presidentessa Sì, della Sabatini. Da quanto tempo esiste Intercamini? Noi siamo nati nel 2015 Siete molto molto giovani Giovani però diciamo che io ho tutto un passato associativo nel senso che ho creato, ho partecipato ad altre associazioni di tipo interculturale in cui si lavorava proprio sul lavorare insieme con persone di diverse culture Beh per esempio quando si parla di intercultura scuola si parla di Erasmus, di scambi, di ospitalità ma insomma pochissimo altro Sì 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 ci sono alcune realtà che lavorano un po' su questo Insomma associazioni che lavorano proprio sul laboratori Per esempio come dicevo parlavo prima del teatro, teatro interculturale, realtà che creano un po' realtà interculturali tipo vabbè Squadre interculturali, sono tutta una serie di realtà che stanno iniziando a svilupparsi in Italia Che possono comunque favorire lo sviluppo dell'intercultura Con Intercamini se siete all'inizio avete immagino delle idee, dei progetti per... Sì come dicevo noi ci siamo focalizzati sull'aspetto della formazione interculturale Perché alla fine un po' di tutta la mia esperienza diciamo associativa Quello che è uscito fuori era proprio la incapacità di gestire queste realtà interculturali con una formazione adeguata Quindi noi stiamo cercando di portare avanti sempre questo aspetto della formazione per gli operatori Che è un po' il punto strategico sul quale ci siamo puntati Le prospettive sono di portarla avanti e di lavorare in diversi settori Quindi che non siano solo come dicevo l'università o gli assistenti sociali ma allargarlo ad ampio raggio Beh anche perché gli operatori, chi lavora a stretto contatto con gente che arriva dall'estero o da fuori Sono una nicchia, sono una piccola minoranza Cioè per arrivare alla stragrande maggioranza delle persone che è il sogno, l'auspicio Bisogna pensare ad altre attività e ad altri modi per abbattere barriere culturali Forse anche i mezzi di comunicazione potrebbero cambiare il linguaggio Assolutamente, ci sono tanti spunti, poi ci sarebbe da parlare davvero per ore Tutti i linguaggi, la televisione, mass media, cartoni animati, lo sport, il teatro, l'arte Sono tutti veicoli di integrazione, inclusione, conoscenza, contaminazione, mescolanza E l'associazionismo di cui parlavamo mi veniva in mente il fatto che Io ho conosciuto questo discorso interculturale, per intercultura intendo tutti i tipi di differenze La prima realtà all'interno della quale ho cominciato a lavorare come psicologa Era stata creata da un'associazione di genitori che avevano dei figli con disabilità E hanno intrapreso questa attività definendola un'attività di promozione socioculturale Partendo dallo sport, prendendo in appalto una piscina Una piscina che non diventava però la piscina di alcune persone Ma la piscina ovviamente della città E quindi attraverso lo sport è diventato un centro di aggregazione per tutti E dopo lo sport c'è stata la creazione di una scuola E questo ha creato cultura Cultura appunto delle differenze, ecco in questo senso Quindi l'associazionismo che parte dal basso Sì, ecco può essere una buona occasione per tutti Per dare la possibilità di socializzare con persone che arrivano da fuori dall'estero La rete, il virtuale, il digitale è un altro modo e metodo aggregante Però anche in rete, quanti amici stranieri abbiamo? Pochissimi, pochi Quante realtà straniere conosciamo? Io ne ho tantissimi Sì, anche io Ne ho tantissimi Assolutamente Quindi avere amici di altre culture arricchisce tantissimo Cioè ci fa crescere veramente Questo è lo step successivo ed evolutivo dell'essere umano Il primo step è aggregarsi col proprio simile Esatto Quindi non si potrebbe fare altrimenti Fondamentalmente Sì, si dice siamo tutti fratelli dal punto di vista ideologico Ma lo siamo anche dal punto di vista genetico In ognuno di noi ci sono geni di culture diverse E quindi facendo un cammino a ritroso dal punto di vista filogenetico Dentro di noi c'è l'Africa, c'è l'America, c'è l'Asia Sì, basti pensare ai cibi, anche agli alimenti I nostri paesi magari sono stati colonizzati da popolazioni Che hanno lasciato traccia del loro arrivo Non solo da un punto di vista alimentare Ma proprio da un punto di vista culturale Quindi le colonizzazioni storiche Sono state forse il primo passo del cammino umano Esatto, ma anche dell'integrazione tra persone di altra nazionalità La società multiculturale dovrebbe aumentare Dovrebbe continuare a crescere con il tempo, credo Quindi siamo all'inizio di un cambiamento Che vede il mondo globalizzato Un mondo dove ci si può spostare Dove si può tentare di cercare fortuna altrove Comunque si tende a viaggiare Un po' anche la rivoluzione digitale Portano a pensare il sistema sociale Come un sistema in continuo mutamento E in continua evoluzione Per questo parlare di inclusione e intercultura Oggi è importante ed è un'urgenza Più che in passato Grazie alla professoressa Grazia Lombardi Docente di psicologia dell'educazione E psicologa sociale dell'Ateneo Unicusano Dell'Università Nicolo Cusano E autrice del libro Che facciamo vedere, professoressa Il team nei processi di inclusione Come costruire interdipendenze positive Nel contesto educativo Conversando con gli addetti ai lavori Complimenti Grazie a voi Alla prossima Alla prossima professoressa Grazie a Cinzia Sabatini Formatrice interculturale Fondatrice e presidente Della fondazione Intercammini Buon lavoro e a risentirci Grazie Grazie tante Buona giornata Mattina con noi termina qui per quest'oggi Noi ci ritroviamo presto su Cusano Italia TV Grazie per averci seguiti Buona mattinata Grazie a tutti Grazie a tutti.